Si sono tenuti ieri pomeriggio, di fronte a una folla composta e in un clima che ancora lasciava trasparire l'incredulità per la tragica scomparsa, i funerali di Leonardo Politi, l'uomo accoltellato da Maila Conti, nella notte tra lunedì e martedì scorsi a Lido Adriano al culmine di una lite. In tanti, nella chiesa parrocchiale di Travo, hanno voluto porgere l'ultimo saluto all'ex cantoniere di 61 anni che risiedeva nel paese. Nel frattempo, Maila Conti resta nel carcere femminile di Forlì. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti rigettato la richiesta degli arresti domiciliari per la 51enne. Secondo il giudice, non ci sono i presupposti perché la donna venga trasferita alla sua abitazione di Travo. Per la procura, Maila Conti, anche alla luce dei passati e numerosi episodi a suo carico, come stalking e resistenza pubblico ufficiale, sarebbe pericolosa e incline a commettere reati contro la persona. Soprattutto il gesto di aver lavato il coltello utilizzato per il delitto dimostrerebbe una propensione all'inquinamento delle prove, circostanza incompatibile con la richiesta degli arresti domiciliari.